Ciao piccoli maghi, non so voi, ma io quando mi alleno ho sempre un sacco di fame a un certo punto e quindi uso... mi mangio uno di questi e... oh, scusate, ne mangio uno, non due. Volevo dire che ne mangio uno... ne mangio... ne mangio... volevo dirvi che mi... Sì, è molto meglio questo. Buon allenamento, a presto!